e salve a tutti gli schietrini benvenuti in un nuovo video io sono dailycraft72 e oggi siamo con fortnite e da me è appena uscito l'ultimo aggiornamento e già mi sta venendo non so soprattutto questa banana che sta alla mia sinistra in basso a sinistra già mi triggera un botto e la voglio già come skin adesso proprio vi pronuncio già che io ho avuto la fortuna di completare il passo battaglia in tempo per cui ce l'avrò gratuita speriamo che non ci sia nessun bug che me lo tolga spero di no e dovrei anche avere anche uno sconto se mi ricordo bene sul pass battaglia che lo sconto sarebbe appunto per le persone che hanno completato il pass battaglia con le missioni infatti dovrebbero avere uno sconto mi ricordo la percentuale però dovrebbe essere così e vabbè aspettiamo che carichi e dopo vi farò vedere il trailer sono troppo curioso quella banana mi fissa troppo però non riuscirò a stare nella stagione intera con quella banana che mi fissa il personaggio che sta alla destra ecco quello la che sta al personaggio alla destra assomiglia non so come a un personaggio il personaggio che sta alla destra adesso dello schermo sembrava un sacco un personaggio di league of legends ma proprio un botto ci assomiglia vabbè iniziamo iniziamo tutto quanto e basta dai spoglieriamoci sta cosa e eccola alla destra sembra un sacco moi non ci ho giocato ho visto un po' i personaggi però ci assomiglia un botto a un personaggio di league of legends non ci ho giocato 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 Eccolo, ragazzi, guardate, guardate questa cosa qua, guardate il pass battaglia Garo Uito X, riscatta, oh, sì, ragazzi, guardate qui, dai, raga, dai, raga, successivo, successivo, oh, che bella questa schiena, dai, raga. Sinceramente, vabbè, adesso osserviamo tutte quelle che ci dà, vediamo tutto ciò che ci dà, ecco, questo ballo mi piace, non troppo mi piace, discretamente. Ecco, il cane è mio, questo per forza, lo devo vedere, questo discretamente, discretamente è bello, questo è bello. No, questo non mi piace tanto, questo è bello, carino. Ah, questo mancava, mi mancava proprio tanto. Mettiti in fila, adesso, questo è bello. Dai, però, tutti i belli sti cani, sti tipi di cani, sono bellissimi. Sto adorando questa cosa. Quella che la stavo adorando. Però lo so, oh, si ho fatte bene. Porco due, oh. No, vi sa già una cosa che non lo vedo adesso. Non la vedo dopo, quella. Che noia. No, la banana la vedo, no, la devo vedere adesso, troppo. No, che bello. Che bello. E' atomica. E' bellissima. La volta. La volta. Basta, la volta era là. No, la volta. Vabbè, sembra il martello di dormo, dettagli. Sì, ma stai sceso troppo belli. Belli. Adesso, qua. Oh, questa è una figata assurda. Oh, eh, vabbè, è un po' troppo, però. Certo che il polipo è fatto benissimo. E' bello. Eccolo. Fatto d'oro. Mi dà fastidio sta cosa. Cioè, non lo so perché, ma se metto ad esempio così, non si vede più. Cioè, faccio... No, no, si vede ancora. Meglio. Mmm. No, no, questo qua già l'ho visto. Mmm. Ho sbagliato, perfetto. Ho sbagliato. Vabbè. Andiamo avanti. Cioè, c'è più stili, però voglio ridurci. Vabbè. Perchè non lo posso sentire? Perchè non lo posso sentire? È strano sta cosa. Ma io la voglio sentire. Perchè non lo fa sentire? È strano. Gira e rigira. È sempre più bello, ovviamente. Mmm. No. Lusso. Lusso, sì, mi piace. Mmm. Non cambia nulla, però ho bene. What? Hanno cambiato tutto? Hanno cambiato tutto? Ok. Perfetto. Da me stanno facendo anche dei lavori. Mannaccio, quanto mi danno lo stile. Armaghetto. Ecco, io adesso cosa mi interendo. Colore del drago verde. Sto adorando. Non capisco un po' il senso di sta cosa. Pratico. Vabbè, però è leggendario. Mmm. Digi. Digi. Facciamoci una partita tattica. Mai. Faccio già le pezzoglioni di partito. Non riempie. Facciamo una singola. Mmm. Sì, vabbè, facciamo una singola. Mmm. Mi è piaciuto, però. Ovviamente mi è piaciuto tanto. Questa cosa mi è piaciuto tanto il pasto, sta season. Non ho capito molto, molto, però. No, magari mi sono perso qualcosa. Sì, sì, sicuramente mi sono perso qualcosa. Però, adesso, ci sta... Dovevo vedere la mappa. E non me la sono spolera, ma... Per cui... Non vedo l'ora. Ah, scusate, un po' il tono di voce è un po' critico, ma... Mi sono dovuto arrangiare con delle cuffiette che avevo a casa. E non utilizzo quelle lati che indosso sempre. E quindi può essere divertente. Wow. Andiamo sempre da poco. Non ho messo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ovviamente sempre il mio internet che ci metterò tantina tra le ruote. Però, è molto utendente. Mi sono... Io, non lo fossi. Questa è il vulcano Non si vede Ma va bene Deve essere bello comunque Deve essere bello comunque Tutto quanto Nihal Ah 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 già 70 69 su 100 già è un qualcosa alla fin fine cambia proprio poco cioè in game mettendogli situazioni in game tutto quanto però se c'è molto di più la in game la situazione non cambia poi molto a parte dei posti però è abbastanza carino come come cambiato il tutto da ma storia scadroppo la Troppo me lo sto rischiando Preferivo le bende No mi sto pentando Meglio le bende va Guarda quella porca Ok riprese Riprese le bende So che a molti di voi non piacerà questo cambio Però devo rigenerare Preferisco utilizzare le bende Quanto di cannon Sotto alcune versi Porco due Quanto gli odio No 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 Magari di là c'è qualcosa di buono Esperemo di Ovviamente Ovviamente ma niente Mi tenta Mi tentano così però Non so che fare sinceramente Prendere un po' Perché è apparente Basso livello Di una stima prima Dai Se poi metterà nascosta Porco due Porco due Grazie a tutti Grazie. Non è una buona scelta attaccare qualcuno o essere attaccato. Per cui è meglio riterrarsela nel mio caso. No, 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 no. No, 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 no. Non è un attimo di start. Però, Gattachico, perché uno l'ho ucciso? Prendi quelle cose, mannaccio. Band. Piano piano. Piano piano. No. Cosa? No, 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 no. Raga 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 aiuto Raga raga no 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 mi... no 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 Dobbiamo sbiegarci vediamoci non muore non muore no non ricarica faccio gallare io non c'è bisogno che me lo dite voi lo so allora riuscirò non c'è bisogno almeno allora riproviamoci ci vediamo ci vediamo però stavolta andiamo nel vulcano andiamo al vulcano stavolta sono troppo curioso e comunque oggi che dovrei pubblicare il video sempre di domenica bla 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 oggi che usci da qua i server mi sa che laggano di suo perchè c'è può essere il mio internet ma vabbè dettagli vedo un certo rallentamento un pochino anche del server però poi vabbè so io a dirlo però so i miei dettagli siamo tutti rossi per fortuna non ci sono su 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 addirittura ma come cacchio ho fatto cosa va bene lo lasciamo là per i dettagli wow ma se io vado sulla lava che succede? muoio? sono curioso cos'è quello? no mi sa che prendo fuoco allora questo è ah oh e questa lava dovrebbe fare male giusto? si è non è come l'immaginavo ma è carino a virgolette parlando ovviamente mi trigger a un botto che prendo un'arma prendo un'arma prendi un'arma no 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 dai oh quanto ci godo ci godo un botto mamma mia ma mi aveva anche l'annullata matcha no aspetta aspetta devo aprire ok mettiti anche questo ma guarda quella porta buonissimi materiali che mi potrebbero assoluti e poi sta qualcos'altro? non volevo saltare ma va bene così magari era la scelta migliore da fare quel domantono al me per cento mi triggera aspetta che i boli sono anche cambiati se non erro possiamo arrivarsi dai eh quello me lo metto subitissimo prima però controlliamo non so è un po' un po' magari al centro però vabbè saranno le mie considerazioni personali come sempre penso che rimarranno tali sicuramente non sarà vero c'è niente qua sopra ok questo è un po' di legno buonissimo intanto è qualcosa non c'è niente perfetto no due di seguito come ti faccio così anzi ne spreco per un per cento vedete quello che sto facendo io ho fatto mi sento un mostro per dirmi se l'ha pensato lo stesso comunque ho fatto una kill mi vado a piero sto 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 bramando la prima posizione e che altro cos'è questo non mi frega nulla io ci vado che figo si sente un rumore bellissimo credo di dovermi spiegare spero di averle fatte io se non c'è un'antenna che l'ho fatto si ci sono stato io non c'è un'antenna visto ragazzi quello funziona vi ho insegnato anche un altro metodo per capire se si è resta di voi o no lo fa stare da però mi devo un po' spiegare dai le ferrovie prime erano cioè le si così qua erano più veloci prima non dimmi zai no meglio girare no io giro va no si perfetto si però con due caratta leggendari che mi danno tutto 100 mi sa un po' troppo però voglio andare andiamo un po' là dentro siamo ventissimi non c'è la miseria dovrei fingermi un un cespuglio però è meglio essere così essere così no chiudiamo chiudiamo ecco perfetto anzi la cosa che dico migliore è no che è successo no no io l'hanno preso sta cosa 18 su 100 raga aiuto ecco ma quanto lo sapevo ma guarda quanto ci sto andando in una maniera lentissima questa luce ci dovrei raggiungere piano piano si fa tutto piano 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 si fa tutto piano piano si fa tutto dai che figo che figo carino mi piace sto in ipertensione ipertensione vorrebbe vorrebbe dire che sto in tensione proprio al massimo ecco in questi momenti che mi viene da dire quanto ci vuole per scalare una montagna che poi non è nemmeno una montagna e sarà al massimo una collina ma nemmeno ma sbaglio o assomiglia un po' a una no no sto dicendo una sto dicendo una cazzà di quelle poterose che mi incette proprio mi urlate se mi urlano mi ricordo mi cago addosso il mio volto se c'è ste cose porco non addosso oh per questo episodio può essere tutto vi auguro stavo dicendo vi auguro di non essere mai capitato in una persona del genere perché solo di persone del genere si può parlare e quindi ci vediamo in un altro episodio ciao raga